In Mondizia, Muffa e Topi, oltre alle precarie condizioni igieniche, il palazzo è estremamente ammalorato, con ferri in vista e crepe che si allargano sotto il peso delle antenne sul tetto. Sono ridotte così le case popolari di Via Lazio, Montesilvano, 49 appartamenti in un fabbricato che in parte del comune di Pescara e in parte di un privato. Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che ha scritto al ministro dell'Interni e al presidente del Consiglio dei Ministri, la maggior parte degli inquilini sarebbe abusiva. Un palazzo in mano ai clan, criminali, delinquenti, persone che spacciano droga, ma voi immaginate che questi iniziano a mezzanotte a far baldoria tutte le sere, musica ad altissimo volume, i cittadini onesti non riescono più a vivere, gettano sistematicamente spazzatura dai balconi, anche dal sesto piano, e poi la bruciano, mettono fuoco grandi falori. Il palazzo, oltre ad avere un degrado per incuria, è un degrado strutturale, abbiamo visto ferri che escono fuori dal cemento armato e quindi la situazione del palazzo ammalorato deve un attimino far riflettere un po' tutti. Il Movimento 5 Stelle chiede che Comune di Pescara e Comune di Montesilvano si mettano d'accordo e procedano allo sgombero. Subito lo sgombero, lo sfratto di tutti gli occupanti abusivi, di riqualificare, riqualificare, quindi l'appello forte all'amministrazione comunale di Pescara in accordo con quella di Montesilvano, devono mettere, questo è veramente una delle più grandi vergogne nel centro cittadino.